Seguaci del piccolo magazine e piccole trasgressioni, sono al Barahonda Dancing Club di Milano e adesso siamo qui con una delle ospiti della serata che ci racconterà un po' cosa ti aspetta dalla serata. Grazie per essere con noi, presentati e raccontaci un po' cosa ti aspetti. Sì, sono Jonah, sono Miss Butterfly l'anno scorso. Sì, è appunto Jonah, ha vinto Miss Butterfly nel 2020, che è proprio questo bellissimo concorso organizzato qui al Barahonda e l'anno scorso ha vinto proprio lei, giusto? Bene, infatti bellissima. Com'è il Barahonda, ti piace? Sì, mi piace, tutti i sabato sono sempre qua. Sempre qua, il sabato, quindi ospite fisso. Stasera sarà una serata particolare, l'inaugurazione, ci sarà uno spettacolo, lo andremo a guardare insieme. Ok, sì. Grazie per essere stata con noi. Grazie, ciao.